ciao a tutti ciao a tutte siamo giunti alla fine dell'anno e allora questa volta semplicemente vorrei farvi gli auguri di un buon anno in tanti ci facciamo gli auguri tanti vi faranno gli auguri in genere gli auguri sono un invito una speranza in un buon anno ma a volte fatichiamo a dire ma cos'è che ti auguro davvero e allora io provo a dire cos'è che ti auguro davvero con una statuina una statuina del di un re maggio di uno dei miei re magi del presepe e perché perché sapete i re magi a me sono sempre piaciuti un sacco ma proprio tanto nelle delle figure del presepio forse sono quelle che mi sono sempre piaciute di più e difatti già da piccolo c'era sempre un po la lotta in casa perché voi sapete che c'è la tradizione che i re magi si mettono soltanto all'epifania oppure si mettono molto molto lontani e poi pian piano si avvicinano io ho sempre amato metterli subito nel presepe e anche abbastanza in evidenza non lontani lontani abbastanza in evidenza e allora lottavo per dire io li voglio i re magi perché sono una figura davvero importante beh innanzitutto sono importanti perché parlano di tutti noi parlano di tutti noi già nel numero sono tre i re magi tradizionalmente si dice sono tre tre come erano tre i figli di noè che hanno dato origine a tutte le razze i semiti i camiti i giappeti e dunque rappresentano tutte le razze cioè rappresentano me e te ciascuno di noi sono noi e normalmente per la tradizione sono uno giovane uno adulto e un anziano quindi a maggior ragione rappresentano noi che siamo o giovani o adulti o anziani rappresentano noi anche in tutte le fasi della nostra vita quindi ci rappresentano da quando siamo piccoli fino agli ultimi giorni della nostra vita interessante dunque i re magi lì nel presepe rappresentano me rappresentano noi e rappresentano noi in ricerca cioè dicono qual è la cosa più vera di noi che siamo noi in quanto siamo in ricerca e difatti i re magi lo sappiamo partono inseguendo una stella e camminano per giorni inseguendo una stella è bellissima questa cosa qui e cioè dicono cos'è un vero uomo una vera donna è uno che insegue una stella cioè è uno che in ricerca che non si viene arrivato che non sta lì semplicemente a difendere le cose che sa è in ricerca in umile tenace ricerca inseguendo una stella cioè sei davvero un uomo se una donna se insegui delle stelle cioè se hai qualcosa di bello di luminoso di alto da seguire da cercare di raggiungere ecco rappresentano noi perché a un certo punto si perdono a un certo punto seguendo la stella non ci vedono più la stella e non sanno più dove andare che bella questa questa immagine perché dobbiamo riconoscerlo anche noi anche quando siamo adulti ogni tanto ci perdiamo ci perdiamo nel senso che ogni tanto non sappiamo più qual è la strada da seguire non la vediamo più così netta ogni tanto fatichiamo a capire cosa dobbiamo scegliere succede succede anche a noi adulti e allora con molta umiltà bisogna riconoscerlo succede che noi vogliamo fare un po i testoni un po gli arroganti e far finta che far finta che noi sappiamo tutto abbiamo tutto chiaro abbiamo tutte le verità in tasca e invece dobbiamo ricordarci i re magi che pure erano sapienti d'oriente e che a un certo punto si perdono in questo tempo in quest'epoca siamo tutti un po persi è un'epoca di incertezza questo non vuol dire che è tutto incerto ma certamente vuol dire che non è tutto così chiaro sta cambiando tutto stanno cambiando i paradigmi e di tanto in tanto dobbiamo riconoscerlo fatichiamo a capire qual è la direzione e allora sono belli i magi perché osano chiedere aiuto osano chiedere aiuto bellissimo questi grandi sapienti che osano chiedere aiuto non sappiamo ci potete aiutare che bella questa cosa non dei testoni arroganti ma umili ricercatori che osano chiedere aiuto perché si sono persi e poi ritrovano la stella e arrivano alla grotta e lì consegnano oro incenso e mirra che lo sappiamo tradizionalmente vuol dire riconoscono il mistero che si sta compiendo lì c'è un uomo che è dio e c'è un dio che è uomo riconoscono il mistero ed è bellissimo questo i magi sono quelli che ci invitano a riconoscere il mistero delle cose riconoscere il mistero delle cose vuol dire riconoscere veramente la ricchezza delle cose le cose sono molto di più di quel che noi vediamo a prima vista sono molto più ricche le cose le persone gli eventi i magi sono questo una lunga ricerca per riconoscere la ricchezza di ciò che ci circonda ma ovviamente ancora molto di più riconoscono il mistero quello lì quello di quella capanna di quella grotta dove c'era una presenza folgorante c'era addirittura la presenza di dio in questa nostra terra questo sono i magi ricordiamo i magi e ricordando i magi vi faccio proprio questo augurio che ciascuno di noi che ciascuno di voi possa essere un onesto ricercatore capace di seguire ancora delle stelle umile capace di riconoscere che ha bisogno e capaci insieme di cercare credo che questo tempo e anche l'anno prossimo sarà un tempo in cui dobbiamo mantenerci in ricerca riprendere la voglia di cercare di guardare avanti ma anche la capacità di aiutarci perché non è così netto ciò che dobbiamo fare soltanto aiutandoci ascoltandoci condividendo i nostri sguardi sicuramente potremmo trovare la strada per andare avanti riconoscendo come i magi che c'è una presenza anche per l'anno nuovo che viene una presenza che ci accompagnerà la presenza del signore gesù cristo vi auguro un anno così buon anno di cuore